Buongiorno a tutti, vi abbiamo convocato in questa conferenza stampa perché vi volevamo rendicontare dell'attività che abbiamo svolto ieri e vi volevamo presentare le persone che ieri per la prima volta nella storia sono state scelte, si sono presentate, sono state come diciamo noi graticolate e valutate e scelte in diretta streaming per i ruoli dell'ufficio di presidenza che si andranno a definire giovedì prossimo in aula, sono nostri candidati, sono nostri deputati, ieri per la prima volta come dicevo nella storia una diretta streaming ha permesso ai cittadini di entrare all'interno del funzionamento di un gruppo parlamentare, tra l'altro una diretta streaming eseguita in contemporanea da più di 9000 utenti e che in queste ore si sta, i filmati ovviamente derivati dalla diretta streaming stanno girando sul web, quindi la gente ha fame di partecipazione e di trasparenza delle attività, questo è un chiaro ritorno, è un messaggio che noi cogliamo. Vi voglio presentare queste persone, poi diranno due parole di presentazione, sono Luigi Di Maio per la vicepresidenza dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, Laura Castelli per la posizione di questore e Riccardo Fraccaro per la posizione di segretario. se volete presentarvi, Riccardo Fraccaro, segretario, Laura Castelli questore, Luigi Di Maio vicepresidente. Allora, buongiorno a tutti, sono Luigi Di Maio, sono stato eletto nella circoscrizione Campania 1, sono residente a Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, nella vita sono studente di giurisprudenza, mi occupo anche di web marketing come webmaster, è il realizzatore di diversi documentari su questioni sociali della mia terra e mi occupo anche e scrivo anche presso alcune testate locali appunto del mio territorio, faccio parte di questa esperienza dei meetup del Movimento 5 Stelle dall'inizio, dal primo V-Day nel 2007, mi sono candidato ieri, ho seguito la graticola, ho subito la graticola e sono stato il più votato come candidato alla carica di vicepresidente della Camera dei Deputati, semplicemente cerchiamo di portare il metodo del Movimento 5 Stelle nell'ufficio di presidenza e il mio obiettivo è quello di collaborare con tutti i membri dell'ufficio di presidenza, spero quanti più possibili del Movimento 5 Stelle per cercare appunto di portare trasparenza e sobrietà all'interno di quell'istituzione. Grazie. Laura Castelli, 26 anni, io arrivo dal Piemonte, sono un'attivista piemontese, ho un'esperienza in attivo all'interno di un gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ho una laurea triennale in economia aziendale e abbiamo dimostrato nelle istituzioni in questi anni, nelle istituzioni in cui siamo entrati che controllare i bilanci pubblici e controllare i soldi è un'attività fondamentale, noi lo faremo, io personalmente sono una mangiatrice di bilanci e quindi andiamo avanti, metterò a frutto tutto questo per questo incarico che è molto importante. Buongiorno, sono Riccardo Fraccaro, ho 32 anni, laureato in giurisprudenza, mi occupo da un paio d'anni di materiale giuridica, di energia, efficienza energetica, in particolare di contratti di rendimento energetico, di bandi appunto sempre nel settore dell'efficienza energetica. Niente, sono onorato di questo incarico, di questa carica, che è questo incarico che mi ha dato il mio gruppo parlamentare e spero di portarlo a termine con, nel caso fossi eletto, con impegno e con la massima trasparenza. Trentino Alto Adige. Allora, vi abbiamo presentato i nostri candidati, vi ricordo che per la prima volta un gruppo parlamentare sceglie le persone per degli incarichi soprattutto così prestigiosi in diretta streaming. Vi ricordo ancora una volta la fame che c'è di trasparenza e di conoscenza dei meccanismi delle istituzioni da parte dei nostri concittadini. Volevamo focalizzare su alcuni aspetti del fatto che noi abbiamo compiuto questa scelta di presentare dei nostri candidati autonomi, così come abbiamo fatto per la presidenza della Camera e del Senato. La Camera dei Deputati nel 2013 spenderà complessivamente circa 1 miliardo e 300 milioni di euro come budget per il suo funzionamento, che sommato al budget del Senato arriva a sfiorare una cifra più o meno pari a 2 miliardi di euro. Ricordo sempre, tanto per dare un ordine di grandezza, che corrisponde più o meno alla metà dell'IMU prima casa del 2012, tanto per capire il giro di soldi che c'è all'interno di queste sole due istituzioni. Questa montagna di soldi ha tre veri controllori, che sono i tre questori e delle altre figure come il Vice Presidente e i segretari, ma soprattutto i Vice Presidenti in questo caso, che vanno a sostituire il Presidente della Camera che sarà sempre in giro per attività istituzionali. Questi tre deputati questori, dare al 5 Stelle una o due di questi ruoli crea molto sgomento. Noi abbiamo letto qualche giorno fa su Repubblica le dichiarazioni al Senato tra Lamberto Dini e Beppe Pisano. Vorrei fare una citazione letterale. Se i grillini arrivano in commissioni delicate come antimafia e copasi era un problema, e tu lo sai, dice Dini. E come, ha risposto Pisano, se avranno un questore renderanno pubblici i costi di qualsiasi cosa qui dentro, caramelle comprese. Ecco perché noi facciamo tanto paura all'interno dell'ufficio di Presidenza. Vediamo quali sono i poteri dei questori, perché noi lo vorremmo spiegare ai nostri concittadini per quale motivo è così importante andare a ricoprire questi ruoli. I questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente, questo da regolamento. Sovraintendono alle spese della Camera, ovviamente tutto questo che dico per la Camera è analogo al Senato, e predispongono il progetto di bilancio e di conto consuntivo. Sovraintendono al cerimoniale al mantenimento dell'ordine della sete. Inoltre i questori fanno parte di organismi fondamentali per il controllo delle spese e della trasparenza nella Camera dei Deputati e nel Senato. Svolgono poi, partecipano al Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, sul Comitato per la sicurezza, sul Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche. Ora, giovedì si voterà l'ufficio di Presidenza. Noi, ribadisco, abbiamo fatto la scelta di presentare tre candidati nostri. La legge elettorale e il regolamento della Camera prevedono che, nonostante il fatto che noi siamo la prima forza politica in questo ramo del Parlamento, non abbiamo la garanzia di poter vedere i nostri candidati eletti se non faremo accordi con i partiti. E noi non faremo accordi con i partiti. Ora, la responsabilità di lasciare fuori il 25,5% dei cittadini italiani che ci hanno messo qui dentro come loro portavoce e soprattutto come controllori, la responsabilità di lasciarci fuori se la prenderanno i tì nel caso in cui non votino i nostri candidati all'interno dell'ufficio di Presidenza. Noi vogliamo assumerci questa responsabilità. È stato detto che siamo qui in gita scolastica, è stato detto che siamo in vacanza. No, noi siamo qui per assumerci questa responsabilità, la responsabilità del ruolo in cui i cittadini ci hanno messo. E non lo facciamo perché vogliamo poltrone. Noi non vogliamo poltrone, ma vogliamo riconosciuto il ruolo del 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle e il ruolo che i cittadini ci hanno affidato. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, nel suo discorso di insediamento ha detto che questa Camera sarà la casa della buona politica. Ha parlato di trasparenza e di sobrietà. Adesso, all'occasione, veramente, giovedì, oggi c'è l'ufficio di Presidenza e poi giovedì la votazione, di dimostrare con i fatti queste sue affermazioni che ha fatto durante il discorso di insediamento. Quindi noi la invochiamo come figura di garanzia per tutti i cittadini. Grazie di essere venuti, arrivederci.